Ciao ragazzi, se volete rimanere aggiornati sui video di Bancomatti, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Ciao e buona visione! Buongiorno, ciao ragazzi, Fuzzger88 di Bancomatti. Allora, quest'oggi portiamo una super mega combo della stampa in cerca di extra... carta e penna. Mi si incrocia la lingua, talmente è potente la combo. Ve la segno io. Allora, andiamo direttamente nell'angolino, almeno magari mettiamo in grafica le tre opzioni. Perfetto, partiamo con la prima. Va bene, prima di tutto, Carefour. Questa operazione si svolge al punto vendita Carefour. Ok, perfetto. Trovate tutta la grafica e l'illustrazione nel volantino Carefour che va dal 12 al 24 luglio 2016. Preso in pieno proprio. Preciso, ci stiamo. Allora ragazzi, si parte così. Cos'è lo spendi e riprendi? Lo spendi e riprendi, in questo caso al 50%, funziona così. È una tecnica di Carefour, c'è una promozione di Carefour. Spendo. Quello che spendo, tipo spendo 10 euro per questa cornetta, Carefour mi dice... E' un altro che dicevo per cornetta che io. No, 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 no. 10 euro per questa cornetta. Ti do indietro 5 euro, che però mi devi spendere, sotto forma di buono, che però mi devi spendere in un periodo che ti dico io, Carefour, su tutto quello che ti pare. L'importante è che mi fai una spesa minima, che io ti segno su. Esatto. Questa è un'introduzione allo spendi e riprendi. Mettiamo via la cornetta e si parte. Allora, lo spendi e riprendi, che vi segnaliamo subito, riguarda la categoria gelati. Esatto. Che è qua gelati. Sì. Allora, c'è da dire, lo spendi e riprendi dura 3 giorni. 14, 15 e 16 luglio, rivolto al 50%. Cioè, tutto quello che spendi ti viene ridato il 50%. Del valore totale dello scontrino. Sì, del valore totale dello scontrino. In quanto noi abbiamo già fatto un vecchio video, li trovate qua là in alto, ve lo facciamo vedere come esempio. Esatto. Poi, c'è una piccola, penso che sia la più piccola postilla interessante e va a vantaggio. Dice, compresi quelli in promozione. Quindi prenderete il 50% anche di gelati scontati. Poi, una settimana fa vi aveva fatto un video sul sito della Nestlé. Perfetto. Poi ci mette a disposizione dei buoni su che prodotti? Batti buon, gelati, roba devastante. Praticamente poi, in quanto lo scontrino si ferma al totale e poi lo sottorno dei buoni va al di sotto della cifra. Quindi se noi faremo 10 euro di gelati e poi utilizzeremo 3-4 buoni da 1,50 euro, verrà poi scontato buon fornitore 6 euro con un altro sotto totale da 4. Esatto. Ma noi il 50 l'abbiamo preso più 10. Esatto, quindi roba proprio rapidissima. Maxibon costo 4 euro. Ne prendo uno, compro, lo sconto sul Maxibon te lo fa arrivare a 1,65 euro, però ti torno indietro 2 euro perché te lo fanno su 4 euro. Sulla cifra piena. Sulla cifra piena, o perlomeno. Se sono cambiate le regole le hanno cambiate ieri perché fino all'altro ieri funzionava così. Poi, se prendete altri gelati, vi alleghiamo, cliccate sempre qua in alto che vi portiamo in un altro episodio dove vi spieghiamo come funziona. L'app Tifrutta. Perfetto. Questa app ci permette di recuperare i soldi sulla spesa fotografando semplicemente lo scontrino e comprando i prodotti che ci consiglia lei. L'unica cosa, Tifrutta non funziona, cioè perlomeno le promozioni interni non funzionano su altre promozioni, quindi state attenti. Magari utilizzate il buono su un prodotto in cui non è scontato da Careful, in cui prendete il percentuale di sconto e il cashback da Tifrutta. E Tifrutta, ora in questo periodo, essendo estate, sui gelati ci dà una marea di soldi. Cornetto, alzina, magnummini, gli affogati, davvero una marea di cose. Una marea di cose. In più vi spieghiamo. Per quanto riguarda la promo numero uno, gelati, attiva dal 14 al 16 luglio, ci danno il 50 spendibile dal 17 al 23. E qui fermi tutti. Vi aiutiamo con un po' di grafica. Segnate anche questa segnata. Sì, guarda, ma la segno pure io. Vai. Gelati, gelati dal 17 al 23. Perfetto. Su una spesa minima da 20 euro. Esatto. E tutto questo può essere fatto solo dai possessori di carta Payback. E la carta interna, carta fedeltà Careful. Gratuita. Gratuita, sì sì, no, assolutamente. Poi, vi diciamo che la promo numero due parte dal 21 al 23. Ottimo. Quindi entra precisamente in combo con l'altra. Quando dobbiamo spendere il buono della prima. Quindi dal 21 al 23. Ci sono due. Ce ne sono due. Bravo. Che va a gusto. Dici che la provo? Sì, ma ce la ricordiamo, dai. Sì, no, però voglio fare le messe dei precini. Ok. Allora, dal 21 al 23 si ramifica la promo. Possiamo spendere il nostro buono in prodotti su repellenti e insetticidi, comprese anche quelli in promozione, e ricevere ancora un ulteriore 50 di spendi e riprendi. Perfetto. Spendibile poi dal 24 al 30. Esatto. Quindi è un cashback che genera cash. Tutto va avanti così. Praticamente dai gelati, col buono dei gelati, andiamoci, ramifichiamo in due parti. Una è quella degli insetticidi repellenti. Wow. E l'altra, che non vi abbiamo ancora detto, riguarda i prodotti per gli animali. Tipo qualsiasi... Giochini, crocchè... Per i tuoi amici animali. Anche questa è compresa quella in promozione. Per tutti i possessori, sempre di carta per i bè. Per i bè, giusto. Anche questo buono poi sarà spettabile dal 24 al 30. Eh, cuba, c'è tutti animali. Esatto. Cuba, basta, 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 basta. Gioco. Vi compriamo i giochi, basta. Praticamente poi potrete spendere questo buono, sempre generato dai gelati, su insetticidi, come dicevamo, prodotti repellenti, o prodotti per gli amici animali. Che dai giochi, al mangiare, agli accessori... Che bello è quello che magari non si farà rumore. No, 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 voglio perché sennò puoi guardare. Senti, sentila che già fa casino di là. Niente, questa promo qua, nella seconda che si ramificano, devono essere spesi dal 24 al 30. Perfetto. Generando ancora un altro cashback, scusa, un altro spendi e riprendi al 50. Esatto, esatto, esatto. Questa è facilissima. Io a questo punto direi che possiamo tornare grandi, cosa dici? Sì, io vorrei dare un consiglio, un ultimo consiglio. Quando poi avete il secondo buono generato dal secondo spendi e riprendi, io vi consiglio, comprate ancora gelati, perché quei buoni lì potete recuperare i soldi ancora con tifrutta. Perfetto. E quindi è tutto così, se no, con quel buono utilizzate prodotti con cui potete avere dei cashback. Perfetto. Questo è il piccolo consiglio, torniamo grandi, ti chiedo scusa. No, no, ma vai tranquillo, è stato un ottimo consiglio. Senti, scuba che ha pagato. Ok, amici, perfetto. Dopo questa supercombo, io direi un cashback ai Bancomati. Ciao a tutti, i miei soliti link in descrizione, mi raccomando, continuate a seguirci come andate facendo, continuate a commentare, continuate a spolliciare alla grandissima. A scriverci, a farci domande. Esatto, apprezzatissimi. Tutti e molte sono stati anche degli utilissimi consigli. A questo punto io direi un abbraccio ai Bancomati. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!